E bello a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video! Oggi andremo ad effettuare l'unboxing di due prodotti che ho acquistato su Dudru, la quale è un'azienda italiana che produce pellicole per iPad. Se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram, trovate il link sotto in descrizione, dove ogni giorno pubblico novità riguardanti il mondo Apple e tanto altro. Ed ora non perdiamo tempo, cominciamo subito con questo unboxing, seguitemi! La confezione di primo impatto si presenta in questo modo. Andiamo a rimuovere il sigillo di autenticità. La confezione è molto minimal. Al suo interno troviamo le due pellicole. Dopodiché le varie pezzoline per rimuovere eventuali residui di polvere dal display del vostro iPad. Queste due spatoline per applicare al meglio sullo schermo la pellicola. Ed infine il libricino di istruzioni, il quale ci illustra come applicare appunto questa pellicola. Infine troviamo anche una skin per Apple Pencil. Ce ne sono di varie colorazioni, però io ho scelto questa, che dà l'impressione di una vera e propria matita con la gomma. Vado ad installarla e ci vediamo dopo. Innanzitutto partiamo dalla vera e propria rivoluzione, ovvero la pellicola, la quale rispetto a quelle vendute su Amazon è totalmente diversa, perché Doudroux ha voluto progettare questa pellicola con materiali di qualità, la quale dà l'impressione di scrivere su un vero e proprio foglio di carta. Grazie a tutti. Il disegno e l'editing è molto naturale e preciso, senza nessun ostacolo. Ha inoltre la protezione antiriflesso, che offre una splendida vista in tutte le condizioni di luce ed angolazione, con una precisione ineguagliabile. La visione di un film, la navigazione sul web, anche in modalità dark mode, oppure interagire sui social. Con questa pellicola il vostro iPad sarà sicuramente perfetto e migliore in tutto. La pellicola protettiva inoltre è perfettamente funzionante non solo con Apple Pencil di prima e seconda generazione, ma anche con qualsiasi altra penna compatibile con il vostro iPad. E questo fa sì che l'Apple Pencil abbia un grip migliore rispetto ad un altro iPad senza questa pellicola Doudroux. Ad alcuni non potrebbe piacere però, perché questa pellicola, essendo in una texture opaca, andrà a scurire un po' lo schermo del nostro iPad, riducendone la sua luminosità. Ed anche al tatto, a molti di voi potrebbe non piacere affatto. Essa viene venduta ad un prezzo di 34,50€. E a parer mio è un prezzo onestissimo, vista la sua qualità molto eccellente. Io vi consiglio di acquistarla, trovate il link sotto in descrizione. Mentre se volete cambiare il design della vostra Apple Pencil, io vi consiglio di acquistare questa skin, la quale la fa somigliare molto ad una vera e propria matita. La potete trovare sempre su Doudroux, vi lascio il link sotto in descrizione, al prezzo di 9,90€. Mentre la confezione da 5, ovvero troverete 5 skin in varie colorazioni, al prezzo di 13,50€. E niente ragazzi, da questo unboxing era tutto. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di lasciare un like, per me è molto importante. Iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per futuri video. E se ancora non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social, in particolare su Instagram. Trovate i link sotto in descrizione. Io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video! Ciao!